ciao a tutti e bentornati sul canale di safutobu oggi riprendiamo mud runner in questo video vorrei sbloccare un nuovo trofeo missione di soccorso dovremmo recuperare un veicolo fuori uso e trainarlo fino ad un garage per una distanza di almeno 150 metri anche per questo trofeo vorrei utilizzare questa mappa a pendio perché è davvero comodissima invece dell'a469 modifichiamo un attimino il camion a disposizione va benissimo un b131 così è un camion che potremmo diciamo trainare al garage che è subito all'inizio della mappa quindi è perfetto questo questa mappa diciamo è l'ideale per questo trofeo inizio una nuova partita sempre difficoltà occasionale non simulazione allora con questo mezzo diciamo che non ci serve niente quindi possiamo disinstallare tutto quel l'ambaradan vado sul b131 e anche se è un dispiacere dovrò metterlo fuori uso ad almeno 150 metri dalla dal garage che qua quindi do un'occhiata al contatore dei metri in alto dobbiamo portarlo oltre 150 metri diciamo distante almeno 150 metri dal dal garage allora purtroppo è fuori uso controllo l'acceleratore non funziona più mi dispiace ma abbiamo dovuto farlo adesso torno al garage sul 6511 e andiamo in missione di soccorso eccolo qua qualcuno ha avuto una brutta giornata qui ci pensiamo noi ops chiaramente il b131 non ci potrà dare una mano come al solito con la funzione premi, train eccetera quindi dovremo trainarlo di forza eccolo lì che ci segue tranquillamente dobbiamo percorrere almeno 150 metri come detto fino a raggiungere il garage eccolo qua eccolo qua missione di soccorso abbiamo salvato il b131 quindi abbiamo completato anche diciamo questo trofeo ho sbloccato questo trofeo io mi fermo qui ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto nei prossimi giorni caricherò altri video in cui sbloccheremo qualche altro trofeo quindi video brevi come questo vi ringrazio ancora per aver seguito questo episodio spero che vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu ciao a tutti ciao 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 ciao